Buongiorno, ben trovati al concetto appuntamento con la rassegna stampa di Territurio a venerdì 26 novembre è ricchissimo il menù dei giornali anche oggi in quelli nazionali si parla soprattutto di covid di terza dose ovviamente ma anche del vaccino ai bambini dai 5 anni in su nella cronaca locale il caso del giorno è la delibera di ANAC sull'inconferibilità dell'incarico a Macri ma si parla anche della città del Natale delle misure in vista del super green pass ma partiamo subito dal Corriere della Sera che titola così il vaccino dai 5 anni in su arriva l'ok dell'EMA per i bambini l'Italia sarà pronta prima di Natale terza dose per tutti i maggiorenni dopo 150 giorni Trieste anticipa i divieti super green pass le regole andiamo a vedere bene di che cosa si tratta nelle pagine interne del Corriere c'è il primo sì l'idea di partire a metà dicembre che è per la fascia 5 11 anni dall'agenzia dell'unione europea in Italia si deciderà tra una settimana il ministero della salute autorizza il richiamo dopo 5 mesi a tutti gli over 18 il via per i bambini secondo speranza che il ministro della salute ha ipotizzato la vaccinazione ai bimbi dai 5 ai 11 anni dal 20 di dicembre gli under 12 senza l'obbligo di pass l'allargamento della platea vaccinale agli under 12 non si traduce per ora a un pesteso obbligo del green pass scongelati gli hub previsti entro maggio 45 milioni di iniezioni riparte la rete di somministrazione rimaniamo appunto sempre sul Corriere della Sera con alcuni dati il capo dell'AIFA Palù a quell'età è diventata tra le prime cause di morte immunizzare chi va a scuola da libertà e limita fortemente la diffusione vediamo questi numeri nella foto notizia il 69,5% i vaccinati nella fascia di età compresa tra i 12 e i 19 anni si tratta di 3 milioni e 216 mila e 284 8,6 invece la percentuale di italiani che hanno ricevuto la terza dose tra dosi aggiuntive iniettate ai pazienti fragili e dosi richiamo per gli altri interessati e rimaniamo ancora sul Corriere della Sera vediamo nelle prossime pagine si parla sempre di iniezioni fra i 5 e 12 anni con un data rumo un'inchiesta appunto condotta da Milena Gabanelli e Simona Ravizza i dati disponibili mostrano che i benefici compensano i rischi dall'inizio dell'epidemia 6 su 1000 positivi sono finiti in ospedale quindi qui tutti i dati raccolti da Milena Gabanelli che poi produce anche nella sezione data rum del sito un video reportage dai luoghi di lavoro e ristorante palestre dove serve il green pass base e quello rafforzato infatti sapete che in questi ultimi giorni si sta discutendo e sarà attivo già dai prossimi giorni due tipi di green pass quello per i vaccinati e quello per chi non si è vaccinato qui l'intervista di Monica Guerzoni e Fiorenza Sarzanini in giallo arancione nessun divieto per chi è vaccinato ma se scatta la zona rossa la stretta resta valida per tutti rimaniamo ancora sul Corriere cambiamo argomento il frio di Venezia Giulia verso il giallo questo insomma è il bilancio di una delle regioni in questo momento più a rischio per quanto riguarda il cambio di colore di zona che prevede una differenziazione delle misure restrittive le proteste domani ritornano nelle piazze dei manifestanti non pass l'ipotesi sciopero dei consumi utilizzate il baratto il cardinal Bassetti presidente della CEA l'anno scorso si ammonò gravemente di covid la pandemia è stata una grande prova ora bisogna andare oltre e qui l'intervista al cardinal Bassetti che conosciamo molto bene in città è stato il vescovo di Arezzo ai dubbiosi direi senza responsabilità la libertà non esiste andiamo invece a vedere le pagine nazionali della nazione che parte con una foto copertina alla nuova guida al green pass quindi tutto quello che c'è da sapere sul nuovo certificato che scende a nove mesi ma non serve scaricarne un altro sia i vaccini per gli under 12 paura per la variante sudafricana si parla di economia perché la legge di bilancio è in porto svolta IRPEF giure tasse al certo medio accordo in maggioranza si passa a 4 aliquote con risparmi in busta paga fino a 700 euro l'anno tagli di un miliardo sull'IRAP i vantaggi maggiori dal 2022 che ha un reddito tra i 30 e i 60 mila euro pressing per aumentare gli aiuti contro il caro bollette che insomma in questo periodo è uno dei temi all'ordine del giorno visto l'aumento anche delle materie prime del gas e di conseguenza anche dell'elettricità il super pass scende da 12 a 9 mesi ma non serve scaricarne uno nuovo chi ha fatto la doppia dose si tiene il vecchio QR code e sarà aggiornata l'app che consente il controllo qui tutta una serie di domande e risposte vari dubbi che si possono avere appunto in merito al nuovo Green Pass stretta su autobus, treni, albergatori in rivolta altre domande e risposte insomma per quello che succederà nei prossimi giorni turisti, chi potrà arrivare da fuori Europa trasporti locali, chi può viaggiare su metri e treni vediamo dal 6 dicembre fino al 15 gennaio per salire sulla metropolitana così come sui bus, tram e sui treni compresi i regionali che prima non erano compresi nell'obbligo di Green Pass sarà obbligatorio il Green Pass base in pratica potranno accedere anche i soggetti negativi a un tampone non c'è bisogno di avere il Super Green Pass ai ristoranti è che è consentito l'accesso al chiuso con l'entrata in vigore del Super Green Pass l'entrata in bar e ristoranti al chiuso ovviamente sarà consentita soltanto a chi verrà il certificato verde potenziato e la restrizione sarà operativa anche nelle zone bianche la profilassi per chi diventa obbligatorio il siero non più solo medici e infermiere l'obbligo vaccinale viene esteso anche al personale del sistema nazionale di istruzione delle scuole non paritarie dei servizi educativi per l'infanzia dell'infanzia siero 4 inoltre per il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso quindi insomma vanno a cambiare molte cose nei prossimi giorni sul mercato resta il vaccino il vecchio siero ma l'aggiornamento quando arriva qui vediamo appunto l'articolo di Malpelo Alessandro, la casa farmaceutica che conserva le nuove versioni per la quarta dose l'attuale del vaccino è ancora efficace andiamo a vedere le pagine della nazione locale in fotocopertina la città di Natale blindata obbligo del super green pass martedì il comitato sui controlli l'anticorruzione stop a Macri l'ANAC decreta l'incompatibilità tra il suo ruolo di consigliere comunale e la nomina a presidente di estera bufera politica sì perché ieri è arrivata appunto una delibera di ANAC che si è espressa proprio sulla nomina di Francesco Macri alla guida di estra e ne ha decretato, ne ha dichiarato l'inconferibilità quindi di quella nomina e al via i procedimenti sui decisori quindi si infiamma il caso Coingas questo anche se è un provvedimento che riguarda estra comunque Macri è all'interno del processo Coingas e poi nei prossimi giorni sarà necessario capire chi prenderà il posto all'interno di estra finora occupato da Francesco Macri esponente anche di fratelli d'Italia abuso d'ufficio dietro la nomina fu una spartizione politica nella sentenza contro Staderini emerge la frattura sulla coalizione dell'ex consigliere la procura di Arezzo sostiene che il parere fu fatto costruire ad hoc per bypassare la legge il PD attacca, situazione a rischio la Lega spinge sul cambio di passo numerosi quindi anche le prese di posizione da parte della minoranza soprattutto le abbiamo raccolte alcune nel servizio di Luigi Alberti il caso Macri e gli effetti sulla politica retina nella giornata del consiglio comunale sui banchi della maggioranza la cosa è passata sotto traccia nessuna dichiarazione ufficiale il sindaco in consiglio non si è mai visto gli unici che hanno detto qualcosa sono stati i consiglieri dell'opposizione Francesco Romizzi di Arezzo 2020 e Donato Caporali capogruppo del PD all'epoca i due erano componenti della commissione garanzia che inviò gli atti all'ANAC la delibera dell'ANAC l'ANAC è l'autorità nazionale anticorruzione quindi un ente terzo che non è sottoposto ovviamente a controlli da parte dei partiti politici che valuta la legittimità e la legalità degli atti amministrativi in questo caso ha detto chiaramente che la nomina di Macri fatta a suo tempo sulla quale noi da tempo abbiamo da anni direi posto l'attenzione fu illegittima e quindi giustamente il presidente Macri finalmente si dimette questo gli permetterà credo anche di affrontare il processo che ha davanti con più tranquillità ci opponiamo anche al tempo uscimo sulla stampa abbiamo contestato questo tipo di indicazione che era una mera indicazione politica effettuata all'interno della maggioranza una nomina dal spiccato riconoscimento nei confronti di quelli che erano fratelli d'Italia come incarico di presidenza di Estra e riteniamo di avere avuto ragione che in ordine alla normativa del 2013 l'incarico fosse inconferibile nei confronti di un soggetto che all'epoca era consigliere comunale e se Sparta piange in questo caso Atene non ride Macri in questi anni ha avuto un rapporto molto chiaro con gli amministratori di centro-sinistra nel suo ruolo di presidente di Estra e nei giorni scorsi fu proprio Romizzi ad alzare il tiro sul PD che sulla vicenda si era mostrato silente in molti suoi sindaci vedremo nelle prossime ore come si evolverà la situazione cambiamo pagina torniamo a parlare della città del Natale sulle pagine della Nazione Mercatini c'è la stretta si entra solo con il Green Pass potenziato il prefetto Maddalena De Luca convoca il comitato il 30 novembre per pianificare i controlli nel mirino anche bus e treni i controlli da chi verranno effettuati steward e personale della manifestazione muniti di lettore per la verifica del C19 dovranno controllare ogni ingresso sicuramente nella casa di Babbo Natale in Piazza Grande ma anche nel punto Lego e la ruota panoramica dove era già prevista l'esibizione della carta verde peraltro ma nel modello base il Covid rialza la testa sono 51 i nuovi contagi quindi in una settimana è quasi triplicato l'uno dei contagi della provincia di Arezzo che ieri ha toccato quota 51 schizzando con un doppio balzo in avanti rispetto ai 23 positivi del giorno precedente staccando i 19 registrati appunto giovedì scorso e qui anche una mappa insomma dove i contagi sono aumentati sempre sulla Nazione incidenti sui rettilini vanno meglio le rotatorie i dati dell'Istat mettono gli aritini tra i più distratti quando la strada è dritta ma sono i migliori in Toscana quando affrontano i rondò mortalità sempre mortalità sempre alta andiamo a leggere le prime le prime righe di questo articolo rettini distratti lungo i rettilini molto attenti quando affrontano rotatorie emerge anche questo dato curioso dei dati dell'Istat appunto sui incidenti in provincia di Arezzo più in generale i tassi di mortalità in provincia di Arezzo è superiore la media toscana e lo stesso di casi per l'indice di gravità degli incidenti andiamo a vedere le pagine del Corriere di Arezzo ristorante autunno da boom registrato 20% in più rispetto al pre-covid del 2019 quindi una stagione davvero importante per i ristoratori Federico Vestri siamo pronti ormai ci siamo adattati tutto pur di scongiurare altre chiusure ritorna un caso di cronaca che è stato protagonista dei media negli ultimi anni ovvero quello della scomparsa nel 2014 di Guerrina Guerrina si trova in un convento l'avvocato di Gratien va in Francia vediamo di che cosa si tratta Guerrina Piscaia viva si trova in un paese della Francia presso una casa religiosa questa è la segnalazione di una sensitiva e quindi da prendere con le molle anzi di più ma l'avvocato Rizzera Angeletti prudente ed esperto uomo di legge ha deciso che andrà a verificare sì a metà dicembre andrò nel luogo che mi è stato indicato con precisione da questa donna che mi ha contattato dice Angeletti che è il difensore di padre Gratien il sacerdote del Congo che sconta in carcere 25 anni di reclusione infatti in via definitiva per aver ucciso Guerrina Piscaia vedremo nei prossimi giorni se ci saranno novità nessuna offerta per del Tongo l'immobile marchio restano invenduti deserte le due aste e i prezzi scendono ancora che cosa in questa pagina no alla violenza sulle donne firmato protocollo in prefettura De Luca aiuti a chi è vittima la giornata nazionale celebra quell'importante accordo che punta ad azioni concrete di sostegno e a rifondere la cultura del rispetto provincia esposto contro la chiassai il gruppo consigliare si è rivolto al prefetto agito nel disprezzo del regolamento e violato lo statuto lente non è un suo feudo il centro-sinistra per Arezzo considerata già in carica una consigliera per la quale doveva essere votata la surroga bene con questa notizia nel Corriere di Arezzo è tutto con la rassegna stampa noi ci rivediamo lunedì prossimo